Dopo il pareggio conseguito in trasferta nella gara d'andata, la Val di Sangro vuole archiviare la pratica a Montenero ed accedere in tal modo al turno successivo di Coppa Italia. La gara si disputa sul neutro di Mozzagrogna a causa dell'indisponibilità del comunale Sangrino, diverse le assenze nelle due compagini. Giovanni Borrelli, tecnico molisano, deve rinunciare agli acceccati tornatore Tramf e Morrone, mentre Vincenzo Cosco non può utilizzare ancora i neoacquisti di Pietro e Antic, lo squalificato Lemme e il convalescente Galetti. Le prime schermalli ci riservano in avvio il diagonale di Rossi-Finarelli che sorvola i legni di Gennaro Esposito e sul versante opposto il diagonale di Sevilla che scivola a lato. Subito dopo Potalivo è costretta all'uscita provvidenziale per anticipare la corrente Pucci. Al 32esimo registriamo il diagonale di Del Gesso che trova Gennaro Esposito sulla sua strada. Dopo un avvio piuttosto equilibrato la gara rompe gli equilibri al 38esimo quando la squadra di casa va in rete grazie all'iniziativa di Somma che va a gonfiare il sacco dopo una pregevole iniziativa personale. Poco dopo Giovanni Esposito appoggia il centro per Pagano, la cui botta al volo manda il pallone sopra la porta di Potalivo. Lo stesso attaccante Sangrino si rende pericoloso con una buona azione personale culminata con la gran botta dal limite che manca il bersaglio. Si chiude in tal modo il primo parziale, l'avvio di ripresa regala il raddoppio alla formazione di casa che in tal modo mette al sicuro il risultato. La rete che arriva al decimo è opera di Sivilla che batte Potalivo complice anche l'involontaria deviazione di Di Falco. Per motivi tecnici non siamo in grado di mostrarvi la segnatura. Il Montenero prova comunque a riaprire la gara. All'undicesimo Gennaro Esposito riesce ad arginare la botta ravvicinata di Rossi Finarelli. Al diciannovesimo si fa vedere il giovane Pucci che manda il pallone a fil di palo. Mister Borrelli opera tutti i cambi a sua disposizione e qualche istante dopo viene premiato dal gol della bandiera che sembra riaprire i giochi. La rete opera di Cipriano che approfitta di una vistosa sbavatura difensiva dei padroni di casa. Nella fattispecie è Marinucci Palermo a fornire l'involontario assist al numero 8 Molisano che batte l'incolpevole Esposito. La squadra di casa riesce comunque a limitare i danni e nel finale prova ancora a pungere con la gran botta al volo del giovane Pacella che non riesce però a centrare il bersaglio. Finisce dunque 2-1 per la compagine sangrina che guadagna in tal modo il passaggio del turno e guarda con moderato ottimismo all'imminente inizio del campionato. Mister Borrelli nonostante la sconfitta odierna con la Val di Sangro per voi era importante esaggiare fisicamente lo stato di forma della squadra in vista dell'inizio del campionato che vi vedrà da matricola? Sì come dici tu era un viatico per testare la squadra soprattutto sono veramente contento della prova dei ragazzini oggi ce n'erano 6 di fuoricoto in campo, l'88 in porta e questa cosa ci lusinga molto. Per noi la Coppa Italia sinceramente era un rodaggio per il campionato, ci stiamo preparando al meglio e speriamo di aver ben impressionato anche oggi e che ci serva proprio di stimolo e di entusiasmo per il campionato. Questa Serie D è un traguardo davvero storico per Montenero di Bisaccia, la società ha allestito una formazione per figurare in che modo quest'anno? Il nostro obiettivo primario è quello della salvezza, lo diciamo in maniera serena, allestito in organico per centrare l'obiettivo nel più breve tempo possibile, poi è chiaro che ogni cosa che arriverà in più sarà per noi tutto bello e ci organizzeremo e lavoreremo per questo. Campagna acquisti chiusa? Siamo in fase di verifica, per il momento siamo in una situazione stand-by, se il mercato, ma le esigenze di mercato soprattutto ci diranno qualcosa di altro eventualmente ci penseremo, però siamo sereni e conscienti di aver fatto un buon lavoro e la strada che dobbiamo percorrere è questa. Come ha visto infine la Valdisangro? Un'ottima squadra con grandi giocatori, veramente bene, quindi faccio i complimenti ai tifosi locali, in bocca al lupo anche alla Valdisangro, speriamo che colgano l'atteso obiettivo che da anni ormai viene in corso. Mister Cosco, dopo l'estate piuttosto tribolata con le speranze vanamente attese per il ripescaggio in C2, si torna a parlare di campionato, ma prima ancora di Coppa Italia, una gara che serve anche per vedere all'opera i nuovi acquisti e per studiare un po' gli accorgimenti per il futuro. Sì, sì, per noi la Coppa Italia era un test di verifica perché purtroppo siamo un po' in ritardo per le note vicissitudini, devo ringraziare i ragazzi perché si sono applicati bene, hanno tenuto bene il campo e questo è di buon auspicio, sicuramente miglioreremo, a parte che arriverà qualche juniores che serve come il pane, però ripeto, sono molto molto contento. A parte i fuori quota che ovviamente servono molto, come diceva lei, sono in stand by alcuni pezzi da 90, mi riferisco a Di Pietro, Antti, Cigaletti e Allemme, quattro innesti che potrebbero far compiere alla squadra il salto di qualità. Sì, purtroppo in questo momento abbiamo questo tipo di problematiche, dobbiamo essere bravi, dobbiamo stare calmi perché questi elementi sicuramente daranno più spessore, daranno più personalità alla squadra, ripeto, già una squadra con una buona applicazione. L'inserimento della Val di Sangro in questo girone più settentrionale rispetto al solito potrebbe favorire il vostro gioco? Ma questa è una buona considerazione perché la nostra squadra è una squadra che è portata sempre al gioco e sicuramente in questo girone anche altre squadre applicano questo tipo di mentalità perché la giocano sempre, probabilmente nel girone sotto, nel girone di sud, c'è più agonismo, ripeto, probabilmente potremmo essere anche avvantaggiati per questo. Presidente Pellegrini, lei sperava magari in un'intervista da presidente di una squadra di Serie C, purtroppo almeno per quest'anno bisogna rinviare i sogni, lei ci crede a questo punto? Ma adesso dobbiamo ricominciare da capo, credere ai sogni senza dimostrare niente, c'è tempo, stiamo ripreparandoci a fare una buona squadra, abbiamo fatto un buon allargamento della società e adesso pian piano pensiamo a crescere. Purtroppo se devo parlare della Serie C, secondo me hanno fatto di tutto, noi ci abbiamo messo tutto, purtroppo il calcio italiano è fatto così. Però mi consola solo una cosa, che la riunione di ieri almeno ha prodotto qualcosa di buono, ci hanno assicurato per il prossimo campionato, non parlo della Valdisango, parlo del calcio tettistico generale, invece di nuove promozioni sicure, 12 promozioni sicure, praticamente ci sarà un play-off allargato, ci saranno un play-off dei vincitori, dei play-off del sud, del centro e del nord, dove vengono fuori altre tre squadre e fanno la rinnova ai tre, sono 12 promozioni sicure. Anche perché ricordiamo che quest'anno questa alta lena Serie C, Serie D vi ha condizionato enormemente anche in fase di mercato, i giocatori erano stati tutti presi da altre squadre e quelli rimasti, insomma, bisogna verificarli. Beh, come si dice, sopra il cotto l'acqua bollita, no? Noi abbiamo aspettato fino al 14 di agosto per poter sapere che campionato dobbiamo fare, perché dobbiamo essere certi di una cosa, che uno che prolunga un campionato di un mese a fare i play-off e poi lo vince, dopodiché ti costringe a fare iscrizione, è una iscrizione a Serie C costituire di 50 mila euro, che tra parete sono ancora ce lo ridanno nemmeno, ti fanno aspettare fino al 14 di agosto, a non sapere che campionato fai e dove devi ripartire. Immaginate un po' voi le nostre condizioni, sono contento a che punto stiamo. Arrivi imminenti o tutto è rinviato a novembre? Ma, arrivi imminenti non lo sappiamo, è un cantiere. Oggi mi sono piaciuto molto i fuori quota, qualche miglioramento c'è stato anche al centro campo, ma un po' che andiamo avanti, vediamo un po' i ritocchi che servono, se ci sarà bisogno penso che a novembre non ci teneremo indietro.